Io oggi sono veramente molto contento di chiudere questa stagione di almeno due pagine al giorno dando il benvenuto ad Elisa Sermarini, insomma, in collegamento con noi. Ciao Elisa, buongiorno, benvenuta. Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutti e a tutte. Allora, sono qui con te ad aprire quest'ultima puntata di stagione di almeno due pagine al giorno per parlare di un appuntamento che in realtà si terrà a settembre, a metà settembre, ma che, diciamo, per la cui partecipazione è necessaria o comunque, volendo, iscriversi entro il 5 agosto. Ne parleremo ampiamente. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di relazioni inseparabili, scuola di formazione e dibattiti sull'ecologia integrale che si, una tre giorni che si terrà a Trevignano Romano dal 13 al 15 settembre 2024. Elisa Sermarini è presidente di GEA e poi, insomma, si occupa anche di politiche sociali di Libra responsabile comunicazione della rete dei numeri pari, che abbiamo avuto modo di conoscere ampiamente all'interno di questo spazio, spesso, con Giuseppe De Marzo. Ma intanto, allora, partiamo da qui. Intanto focalizziamo la nostra attenzione su che cose GEA e poi, insomma, parleremo più approfonditamente dell'evento relazioni inseparabili. Elisa. Intanto grazie per questa passione, Francesco, e per questo invito. Siamo felicissimi e felicissimi di aver accettato con grande gioia. Che cos'è GEA? GEA è un sogno, posso dirlo così. Un'associazione che nasce nel 2021 per promuovere e diffondere quella che è la visione, la cultura, le proposte e le pratiche legate alla giustizia ecologica e ambientale. È un'associazione che collabora con movimenti, realtà sociali, centri di ricerca, agenzie internazionali, diciamo su e con intellettuali consapevoli della relazione che c'è tra la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tutti impegnati a livello internazionale, appunto, per costruire questa visione a livello internazionale. Tra gli obiettivi di GEA, il principale è l'organizzazione, appunto, della scuola GEA, una scuola per la giustizia ecologica e ambientale, un progetto formativo per noi di interesse strategico per accrescere in giovani attiviste e attivisti italiani la cultura politica, gli strumenti, le competenze utili a uscire dalla crisi di sistema, in cui siamo immersi, per realizzare dei cambiamenti concreti, per costruire alleanze, trasformazioni orientate alla giustizia sociale, ambientale ed ecologica. Insieme a me, l'hai citato, c'è Giuseppe De Marzo, che è il direttore della scuola, c'è Fabio Ballerini, c'è Francesca Palmi, c'è Dugginia Talloni, Elena Mazzoni, siamo una squadra, una bella squadra. Al centro della scuola c'è un'etica fortissima che è quella della gratuità, perché la scuola di GEA, tutte le attività di GEA sono gratuite per tutti e tutti. Noi crediamo che la cultura delle collegie integrali debba essere uno strumento messo a disposizione di chiunque, a prescindere dalle proprie possibilità economiche e quindi tutte le persone che lavorano per GEA, docenti, comitato internazionale inclusi, credono fermamente in questo tipo di etica. Senti, Elisa, ti posso chiedere una cosa, potrebbe sembrare una domanda provocatoria, ma in realtà non lo è, perché se la gratuità, che è un elemento preziosissimo per la formazione, che sia una formazione davvero a 360 gradi, però insomma questa gratuità incrocia per un elemento che nel 2024 credo sia importante a tutti i livelli quando si fa formazione, ma quando si costruiscono poi delle attività. La sostenibilità della scuola, in che cosa consiste sostanzialmente? So che potresti tu tranquillamente rispondermi, fatti fatti tuoi, però è interessante capire come funziona, come dire, anche il lavoro per la sostenibilità di queste attività? No, no, assolutamente è importante, io non sono scesa nei dettagli per non annoiare chi ci ascolta, ma se è argomento di interesse sono molto contenta di condividerlo. Noi crediamo fermamente che un progetto, se esiste, deve essere utile, e per essere utile deve essere costruito in un certo modo. Quindi GEA lavora con progetti, scrive progetti pubblici con amministrazioni locali, spesso in partnership, per esempio la prima edizione della scuola GEA è stata costruita con il partenariato del Comune di Trento, la seconda con un progetto della Regione Emilia-Romagna. Adesso questa edizione è in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale e con il Comune di Trevignano Romano. Perché? Perché già non vuole essere solo l'occasione per formare, questa sì è la nostra mission principale, giovani attivisti e attivisti, ma vuole anche cambiare, incidere nel cambiamento che le amministrazioni locali devono avere in questo senso. Assolutamente, quindi formare anche amministratori locali, i loro funzionari, anche questa è tra le mission di GEA. Non crediamo assolutamente che una realtà come questa, sono scelte ovviamente, noi abbiamo scelto di non accedere a finanziamenti privati, assolutamente, proprio per essere indipendenti e autonomi, crediamo fermamente nella cosa pubblica, come direi, nella sua accezione più alta e quindi crediamo che un progetto come questo debba esistere attraverso progetti, collaborazioni con amministrazioni locali. Questo è molto interessante e questo ci piace molto, insomma, il coinvolgimento dell'amministrazione pubblica che è cosa pubblica e che si mette in gioco rispetto a questo genere di progetti, ancora più quando sono progetti di formazione. Allora, faccio un leggero passo laterale, però poi arriviamo subito a relazioni inseparabili. Perché tra le direttrici, diciamo, della rete dei numeri pari c'è l'economia al servizio dei popoli, la costruzione della pace e della giustizia, la difesa della madre terra, no? Da questo deriva poi il lavoro che state facendo e che avete fatto, insomma, immagino la preparazione della scuola di formazione e dibattiti sull'ecologia integrale, relazioni inseparabili. Ho dato un'occhiata al programma che si può consultare in maniera approfondita, intanto, per chi è interessato, su www.giascuola.org. Il programma è incredibilmente ricco e interessante, c'è veramente di tutto, insomma, se ce ne vuoi parlare, ma anche da dove parte l'idea di fare questa tre giorni che mette insieme il trekking, che mette insieme i dibattiti, gli incontri, un campeggio sul lago, insomma, raccontaci tutto o quantomeno quello che riusciamo a prendere, insomma, dal tuo racconto, Elisa. Allora, intanto per rispondere a questa domanda, il modo più semplice è raccontarti, raccontare a chi ci ascolta perché abbiamo voluto mettere su una scuola con queste caratteristiche che vi sto raccontando. Perché sentiamo la necessità e l'urgenza di cooperare, perché nel nostro paese manca una cultura che riconosca questa relazione tra giustizia sociale, ambientale ed ecologica e in altri posti del mondo no. Perché crediamo questo? Perché questa è una cultura che dà concretamente l'opportunità di affrontare e sconfiggere, perché si può sconfiggere, la crisi sistemica e strutturale del paradigma di civilizzazione. Mi perdonerete le brutte parole, come dire, però alcune cose vanno chiamate con il loro nome. Dobbiamo, come dire, avere anche la speranza di poter ricostruire una comunità culturale e politica, noi la chiamiamo della terra e della speranza. A livello internazionale questo esiste da decenni e sappiamo che serve un approccio sistemico per affrontare i diversi problemi sollevati dalla nostra vita sulla terra. Quindi per questo abbiamo scelto di fare questa scuola con un approccio multidisciplinare, intersezionale, che prenda in considerazione le diverse dimensioni della vita sociale e politica degli esseri umani e non solo. Per questo ecco perché abbiamo messo insieme il trekking, la formazione, la meditazione, la, come dire, la fruizione del pasto organizzata in un certo modo, il dormire tutti e tutte insieme nello stesso luogo, perché crediamo che debba essere ricostruita proprio una comunità grande che vada oltre le nostre relazioni personali, un po' come, lasciatemelo dire, no, come tra di noi, Francesco, non ci siamo mai incontrati fisicamente, ma abbiamo collaborato tantissimo e sappiamo che ci ritroviamo nello stesso pensiero. Oggi purtroppo questo non è egemonico, non è la regola. Noi vogliamo creare delle occasioni attraverso il quale, ci tengo a dirlo, tra diversi e diverse, non è che le persone che vengono al festival in relazioni inseparabili sono tutte uguali, pensano tutte la stessa cosa, no, perché la ricetta migliore per cucinare questa grande comunità è trovarci tra diversi, riconoscere gli obiettivi comuni che ci fanno stare insieme e farli crescere. Questa è la motivazione per cui hai visto cose così diverse, no, addirittura ci sono, dicevo, meditazioni, letture. Quest'anno abbiamo anche voluto giocare un po' con i titoli, no, delle varie sessioni, senza perdere la leggerezza nelle sessioni di lettura critica, nutrire corpo, mente e relazioni, si chiama la pausa pranzo, non ci piaceva più dire solo pausa pranzo, no? Natura umana in movimento, per i trekking, insomma, è tutto veramente pensato al millimetro e questo è solo grazie a tutta la squadra che in questi mesi sta lavorando. Ed è bellissimo il gioco di parole perché, insomma, puoi giocare con le parole è veramente molto bello quando alla base c'è la sostanza, perché pensavo adesso, mentre parlavi della pausa pranzo, no, in realtà saranno forse tutte pause pranzo questi incontri perché ci sarà alimento per la mente, per lo spirito dappertutto, tra l'altro in un incrocio incredibilmente interessante tra, come dire, territorio laico e territorio anche spirituale, se vogliamo, non si parla di Giubileo 2025. Insomma, questo forse è il momento non più rinviabile in cui, diciamo, bisogna fare sistema e bisogna mettersi insieme, perché probabilmente anche rispetto a crisi climatica, insomma, e rispetto a tutta una questione, alle questioni legate ai diritti, non si può più, diciamo, aspettare. Non c'è davvero più tempo, no Elisa? Non è soltanto più retorica questa qui. Assolutamente, vi ho toccato un tema per noi, tra quelli centrali, no, il discorso spiritualità, laicità. Noi crediamo che in questa fase spesso, tu per il tuo lavoro lo sai bene, quando si parla di questi temi, si scade quasi nell'emotività, no? Io sono ambientalista e quindi sono un'emotiva, no? Mi faccio trascinare. No, noi crediamo che la spiritualità sia qualcosa di molto forte, che deve essere necessariamente presa in considerazione in questo processo di costruzione, perché siamo esseri umani, abbiamo bisogno di legarci in maniera più profonda di quello che possono fare solo le nostre mani, i nostri corpi. Poi ognuno sceglie il modo che sente più suo, ma come hai visto dalla declinazione, citavi il dibattito sul giubileo, non andiamo a parlare delle motivazioni religiose di quel momento, ma anzi delle motivazioni e delle spinte politiche che quel momento può avere, perché per esempio invece a Roma questo momento sta diventando l'occasione per perpetrare una serie di ingiustizie, per esempio lo spostamento in massa delle persone senza dimora fuori dalla città, piuttosto che la costruzione di hub di accoglienza per migranti transitanti completamente dislocato dai punti di facile raggiungimento, piuttosto che la costruzione di immobili in luoghi dove non dovrebbero esserci, quindi vedi come poi la religione diventa strumentale ad altro. Noi crediamo che la soluzione sia pensiero e spirito insieme, sempre, no? E anche questo cercheremo di trasmettere ai ragazzi e alle ragazze. A proposito di giochi di parole ti volevo solo raccontare questo piccolo aneddoto, non divertente ma molto di ispirazione, quando abbiamo dovuto scegliere il nome di questa associazione, no? Avevamo mille idee, mille spunti e alla fine abbiamo deciso di chiamarla GEA non solo perché è l'acronimo e ce ne siamo accorti dopo, tutti pensano che si chiami così perché è la scuola per la giustizia ecologica e ambientale, quindi GEA. Così come sul sito tra l'altro. Esatto, in realtà non è così, di questo ce ne siamo accorti dopo, abbiamo scelto GEA perché, per chi ha studiato queste materie magari al liceo se le ricorderà, c'è la teogonia di Esiodo che racconta che prima sorse e caos, poi GEA dall'anfio betto sede sicura per sempre di tutti gli immortali, no? Esatto. Quindi la scuola GEA vuole essere quella sede sicura per tutti quegli attivisti, attiviste che hanno voglia, hanno bisogno di lottare, no? A distanza di secoli è incredibile come in una fase storica in cui è di nuovo il caos a imperversare nasce GEA, la scuola di giustizia ecologica e ambientale con l'obiettivo di formare nuove generazioni. Questa è un po' la fantasia che ci ha ispirato e ci teniamo sempre a raccontarlo perché è la frequenza iniziale, no? Che ci ha portato a fare quello che stiamo facendo e io dico sempre quando mi devo agganciare a qualcosa che non conosco cerco di capire qual è la frequenza che l'ha fatta nascere, no? Io spero che questa sia una frequenza e da quello che vediamo lo è apprezzata da chi ci conosce. E noi sentiamo la vibrazione di quella frequenza in maniera molto forte per questo insomma vogliamo anche in questi minuti stamattina dare spazio, anche far venire voglia anche chi da lontano, anche da questi territori, insomma dal nord Italia sia interessato a partecipare a quella Tre Giorni di Trevignano. Tra poco daremo anche qualche indicazione se ti va, però insomma voglio anche dare spazio al parterre fantastico, tu hai cominciato anche a parlarne poco fa, dei partecipanti perché i titoli sono molto interessanti, molto belli e il gioco di parole è molto efficace dentro il programma della Tre Giorni di Trevignano Romano, ma insomma ovviamente questi contenuti verranno declinati da personalità straordinarie, insomma una su tutte Maxima Acugna. Per chi non conosce, ci siamo in tanti a non conoscerla, puoi raccontarci se possibile in poche battute di chi stiamo parlando? Maxima è una donna di enorme forza, è una leader indigena, peruviana, impegnata nella lotta contro le molti nazionali estrattive per la difesa e la promozione del diritto all'alimentazione, alla salute e a vivere in un ambiente sano. Insieme a quelle che si chiamano Selendinas, Lucia Dores e in difesa della Pachamama, le contadine, lottatrici in difesa per madre terra, le potremmo tradurre un po' con l'accetta in questo modo e porta avanti il pensiero e le pratiche delle donne che lottano per i loro diritti e per quelli di madre terra nella regione di Cajamarca, appunto, una regione andina. Nel 2011, dal 2011, in realtà lei resiste con tutta la sua famiglia e tutta la comunità al progetto Conga della multinazionale Yana Kocha. Per questo, nel 2016, ha ricevuto il Goldman Environmental Prize, che è, banalizzo, il premio Nobel per l'ecologia, sostanzialmente, e che è uno dei premi più prestigiosi per chi lotta per la difesa di madre terra. Sono stati pubblicati diversi documentari che raccontano del suo impegno e della vita della comunità, tra queste c'è Aquas de Oro, ve lo consiglio perché è stato da poco messo disponibile online, si trova anche su YouTube, per chi non conoscesse Maxima e la lotta della comunità lo consiglio vivamente. Noi abbiamo il privilegio di avere Maxima all'interno del Comitato Scientifico Internazionale, insieme a lei, li cito per condividere con chi ci ascolta, Nemo Bassey, Frei Betto, Blanca Ciancoso, Boventura De Sosa Santos, Meta Packard, Wolfgang Sachs, Vandana Shiva, insomma, magari per molti anche nomi poco conosciuti, ma che rappresentano per chi lotta per questo, dei punti di riferimento internazionali, non degli intellettuali, ci tengo a dirlo, ma delle persone che hanno unito l'attivismo all'intellettualità, unendo prassi e teoria, una cosa bellissima, perché nell'ecologia integrale questo legame è imprescindibile, non esiste teoria senza prassi, non esiste prassi senza teoria, e in questa edizione sarà lei con noi, in ogni edizione abbiamo avuto un ospite diverso, quest'anno ci sarà lei, e siamo molto molto felici. Io ti ringrazio molto. In chiama me ha, cito i docenti italiani, ovviamente Giuseppe De Marzo, Monica Di Sisto e Tommaso Montanari. Questi saranno i tre docenti italiani che la affiancheranno in queste tre giorni. No, stavo dicendo, ti ringrazio per aver sottolineato il fatto che non parliamo solo di intellettuali, ma anche di attivisti, questo è molto bello, e insomma non crea una distanza, diciamo quantomeno uno stacco tra un piedistallo e la strada, insomma chi conosce il vostro lavoro quotidiano sa benissimo che voi la strada la conoscete benissimo e la frequentate, la camminate, la percorrete con grande forza tutti i giorni. Siamo quasi in chiusura, ci dai due indicazioni per come potersi iscrivere, come partecipare alla tre giorni di relazioni inseparabili, Elisa? Allora, intanto la prima cosa che dico è sbrigatevi, perché le iscrizioni chiudono lunedì 5 agosto. Abbiamo ricevuto veramente tantissime domande, infatti la squadra di docenti che le sta valutando sta anche un po' faticando ad analizzarle tutte, a valutarle tutte prima di lunedì e lo potete fare in due modi. Il primo, il più semplice, attraverso la pagina web della scuola, geascuola.org, cliccate su il Festival 2024, la prima cosa che vedete è una landing page con un'immagine bellissima che ritrae appunto Trevignano e vicino un tastino con scritto Iscriviti. Cliccate su questo tasto, compilate il format che è una domanda di iscrizione, non basta fare questo passaggio perché come dicevo poi la squadra di docenti valuterà la domanda e risponderà una volta fatto, oppure sui nostri canali social, geascuola sia su Facebook che su Instagram, lì trovate in bio e nei vari post il link da compilare. Vi invito a guardare nel dettaglio, oggi ho preferito non perdermi nel raccontarvi il dettaglio del programma perché lo trovate sul sito, lo potete leggere, scaricare, ma più che altro per passarvi quella che è la nostra passione, i nostri obiettivi che insomma non li trovate per iscritto, ecco. Allora geascuola.org per tutte le informazioni per il programma per potersi iscrivere a Relazioni Inseparabili, scuola di formazione e dibattiti sull'ecologia integrale a Trevignano Romano dal 13 al 15 settembre 2024. Allora Elisa Sermarini, io ti ringrazio molto, grazie davvero per essere stata qui con noi, spero sia stato un buon tempo, presidente di Geascuola e insomma buona estate, ma soprattutto insomma buon Trevignano Romano, grazie ancora. Grazie Francesco, a te.